Il biglietto elettronico sbarca sul lago Diseo per tutte le modalità di trasporto pubblico, la novità resa possibile da un progetto finanziato con 400 mila euro dalla regione Lombardia. Prosegue il progetto per realizzare una casa della montagna in Bolivia, centro di formazione per aiutare soprattutto i giovani. Il 5 maggio a Pradalunga una camminata per raccogliere fondi. Nel fine settimana la dodicesima Sarnico Lovereran lungo le sponde del lago Diseo attese oltre 10.000 persone tra partecipanti e accompagnatori. Massiccia la presenza degli stranieri da quasi 30 nazioni. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli. Il biglietto elettronico sbarca sul lago Diseo per tutte le modalità di trasporto pubblico. è la novità che sarà resa possibile da un progetto finanziato con 400 mila euro dalla regione Lombardia. Sentiamo. La giunta regionale nei giorni scorsi ha approvato uno schema di accordo con l'autorità di bacino dei laghi Diseo, Endine e Moro. Che cosa prevede questo accordo? È un importante accordo che è stato seglato tra regione Lombardia ed autorità di bacino, transitato all'interno del nostro CDA di autorità di bacino e prevede sostanzialmente un riconoscimento di 400 mila euro da parte di regione per mettere insieme direi il sistema di bigliettazione elettronica interoperabile sul nostro territorio. Sono complessivamente cifre importanti, sono 571 mila euro di cifre investite, dai quali 400 mila da parte di regione Lombardia e le altre 170 mila sono messe sul piatto da risorse proprie di navigazione, non è stata partecipata al 100% e serviranno appunto per mettere in pista questo importante progetto. Quali saranno le fasi di questo progetto per arrivare poi alla sua concretizzazione definitiva? Come dicevo, il primo passo è stato quello naturalmente dell'uscita dal DGR che ha declinato gli obiettivi e le risorse di questo progetto che riguarda ovviamente tutti i TPL regionali su tutto il territorio Lombardo. Abbiamo recepito poi all'interno del CDA la convenzione, quindi l'accordo sostanzialmente tra autorità di vaccino e regione che come dicevo prima ha declinato direi le cifre messe sul tavolo, adesso noi trasmetteremo il tutto a navigazione che ha già dato il suo senso per mettere la quota a parte, come dicevo prima, di 171 mila euro e poi sarà direi la parte di navigazione, l'obiettivo sarà quello di mettere in campo nelle prossime settimane la gara d'appalto per la fornitura di tutto il progetto. Contiamo che entro l'anno, quindi entro la fine dell'anno, si possa avere già una buona copertura del progetto dell'intorno al 70% per completarlo direi completamente, in maniera completa, scusate, in maniera completa l'anno prossimo, in primavera, ad essere pronti nel 2025, come dicevo, ad essere pienamente operativi. Il progetto è complesso perché naturalmente non riguarda solo un adeguamento dei software ma ovviamente riguarda anche una fornitura di tutte quelle strumentazioni che necessitano poi per essere direi sviluppato e quindi come dicevo la roadmap è questa, essere pronti per la primavera e l'anno prossimo pienamente operativi. Quali sono le novità che questo progetto porterà per i viaggiatori, per gli utenti del trasporto pubblico? La realizzazione di questo sistema di bigliettazione integrata avrà la funzione di essere interoperabile direi in tutti i bacini di trasporto pubblico locale su tutto il territorio lombardo quindi vuol dire che vi sarà l'opportunità di integrare i servizi di navigazione con gli altri sistemi di bigliettazione elettronica che sono in corso di realizzazione su tutto direi il territorio lombardo con tutti ovviamente i bacini del territorio lombardo e quindi cosa avverrà? Che i servizi di navigazione saranno davvero interscambiabili con i servizi ferroviari piuttosto che direi di altra natura vettoriale. Ci tengo a sottolineare che già nel 2016 navigazione con risorse proprie durante l'anno del famoso ponte di Cristo ha messo in campo la bigliettazione elettronica quindi di fatto noi abbiamo già una bigliettazione elettronica. L'attuale adeguamento, l'attuale progetto è un miglioramento di questo servizio perché come dicevo avrà la possibilità di essere interscambiato con gli altri sistemi di trasporto e connesso soprattutto con gli altri sistemi di trasporto. Prosegue il progetto per realizzare una casa della montagna in Bolivia un centro di formazione per aiutare soprattutto i giovani. Si tratta di un'accordata di solidarietà che coinvolge diverse realtà bergamasche e per raccogliere fondi è in programma anche un evento a Pradalunga. Domenica 5 maggio a Pradalunga camminiamo insieme per donare un'iniziativa per raccogliere fondi per il progetto Casa della Montagna per i giovani di Pegnas in Bolivia. In cosa consiste questo progetto? Il progetto Casa della Montagna per i giovani di Pegnas in Bolivia nasce dall'incontro con Padre Topio che è un missionario di menaggio che è 14 anni in questa comunità sull'altipiano boliviano e con Daniela Solari che è un missionario laico di Scanzorosciate che da alcuni anni è lì in questa comunità. Il progetto nasce dalla consapevolezza, come sta dicendo, di Padre Topio che per i giovani di questa comunità, di questo luogo la parte di formazione di livello universitario e poi anche professionale per quanto riguarda le attività legate alla montagna ma anche al turismo sostenibile, anche legato all'avventura può essere una significativa opportunità di lavoro, di professione per permettere a questi giovani, ragazzi e ragazze di rimanere nella loro comunità, nel loro paese e di fatto trovare un mestiere, una professione di soddisfazione ma soprattutto di promozione delle opportunità del loro territorio. Avete coinvolto tante realtà in Bergamasca per sostenere questo progetto e siete arrivati anche in Vasseriana a Prada Lunga. Il percorso di promozione, di fatto di sostegno e di fatto di raccolta fondi per costruire questa casa, che di fatto è un centro di formazione professionale attorno alla montagna, è iniziato l'anno scorso con l'inaugurazione del 150esimo del CAI di Bergamo non a caso è anche un progetto condiviso, sostenuto sia dal CAI di Bergamo ma anche dal CAI Bergamasco e da allora oggi sono nate diverse iniziative a favore di questo progetto per raccogliere fondi e siamo arrivati, una delle ultime, delle più significative a questa camminata solidale, non competitiva, che si farà il 5 maggio grazie al coinvolgimento della rete dell'associazione di Cornale e Prada Lunga. Tante le associazioni coinvolte a Prada Lunga per questa giornata, una giornata di festa. Sì, infatti abbiamo abbracciato con grande volontà questo progetto e il tavolo delle associazioni di Prada Lunga ha pensato di organizzare e gestire questa giornata di camminata con la partenza alle 7.30 con il ritrovo e la partenza alle 8.30 e alle 10.30 con i vari percorsi che arriveranno in Pratolina e poi ci sarà un momento dopo il pranzo, anche un momento musicale. Una giornata di festa, lo abbiamo detto, con tante associazioni di Prada Lunga e di Cornale e tutto il comune praticamente coinvolto. Sì, infatti tutti i gruppi, sono qui a citare i gruppi del gruppo Alpini Prada Lunga, il gruppo Alpinistico Forcella, il gruppo Castanicoltori, il gruppo Terzo Mondo, la Polisportiva e l'Associazione Protezione Civile di Prada Lunga senza tenere indietro naturalmente il patrocinio del comune di Prada Lunga. La comunità montana valesseriana ha aderito al progetto OFF, i territori che prevengono gli incendi promosso dal WWF nell'ambito di questa iniziativa. è previsto per la mattinata di sabato 20 aprile dalle 9.30 alle 12.30 un seminario aperto al pubblico presso la Casa dell'Orfano di Clusone nel quale si discuterà delle attività di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare con l'obiettivo di trasmettere conoscenze sulle buone pratiche e misure da applicare nelle attività selvicolturali al fine di prevenire l'insorgere degli incendi boschivi. È prevista una breve introduzione teorica a cui seguirà una dimostrazione pratica sul campo che si terrà nella vicina Pineta. Nel corso della dimostrazione operatori esperti mostreranno le principali tecniche di gestione dei residui vegetali da applicare al fine di prevenire gli incendi boschivi. Cambiamo argomento, mamme in cammino in Alta Val Seriana, un momento di condivisione per mamme in gravidanza o con figli piccoli che possono anche confrontarsi durante la passeggiata. Il servizio è di Elisa Cucchi. Come ogni mercoledì si rinnova l'appuntamento di mamme in cammino, raccontaci un po' di cosa si tratta e insomma quali sono le vostre tappe. Noi ci troviamo durante tutto l'anno, anche in inverno, visto che l'inverno adesso è bello, il mercoledì mattina alle nove e mezza. Alla fine di ogni incontro, di ogni passeggiata con le mamme, decidiamo di comune accordo dove trovarci la volta successiva, così sono le mamme che in base a un po' i loro bisogni scelgono il percorso. Se magari è più vigina, così abbiamo la pineta, piuttosto che la sede dell'associazione che ci permette un luogo caldo e accogliente per condividere. È uno spazio nella natura che ci rigenera anche noi, io e Silvia, che accompagniamo le mamme e poi è uno spazio di ascolto, di condivisione, di rispetto dei bisogni, perché abbiamo le mamme che aspettano i bambini, quindi in gravidanza, le mamme che hanno i bambini di pochi mesi fino all'annetto, perché poi i bambini dopo l'anno hanno bisogno di sperimentare un po' anche l'ambiente, di camminare, muoversi e quindi è un po' più difficile. Alcune mamme se hanno bisogno andiamo a prenderle a casa, se hanno difficoltà di trasporto, piuttosto che magari degli orari diversi, di riaccompagnarle e così. Anche per noi, anche per me e Silvia, è uno spazio di leggerezza e di stare nella natura che ci fa bene a tutti. Per le mamme sicuramente è un momento di conforto, di aiuto e sicuramente anche di ascolto. Durante queste passeggiate ci si confronta parecchio. Sì, le mamme tra di loro condividono un po' le fatiche del rientro dall'ospedale quando i bambini sono piccoli, le notti un po' insonni e poi trovano loro le loro risorse. Noi facciamo un pochino da supporto, ma sono loro le protagoniste. Questa attività è organizzata all'interno del progetto Family, che ormai raduna un sacco di paesi qui in Altavalle Seriana, ma non solo, il progetto Family che è nato proprio da Rovetta e anche dalle vostre attività. Sì, l'associazione Family ha un'attenzione particolare e ci supporta proprio per continuare questa esperienza con le mamme, perché anche loro, soprattutto mamme di posti diversi che vengono ad abitare nelle nostre zone, che magari non hanno contatti, piuttosto di alcune mamme che hanno delle fragilità, che insieme con altre trovano il loro modo per superare dei momenti un pochino più sensibili, più impegnativi. Un'ultima domanda, come fare ad iscriversi, come fare a far parte del vostro gruppo di Mamme in Cammino? Noi abbiamo sul gruppo di WhatsApp Mamme in Cammino il numero di telefono per contattarci e tutti all'inizio settimana, in genere il lunedì, mettiamo il post. Poi c'è su Instagram, poi al mercato esce ancora un nostro post dove abbiamo l'appuntamento del mercoledì e poi il passaparola tra le mamme e anche il gruppo dell'Associazione Femmili mette il nostro appuntamento. Una serata all'insegna del rock moderno, ma in una versione inedita, sabato sera al Teatro dell'Oratorio di Clusone. Scopriamone di più. La macchina del vuoto è uno spettacolo in programma sabato 20 aprile al Teatro Monsignor Tomasini di Clusone sul palco i Poison Blackout e anche un attore Matteo Vismarra. Ma che cos'è questo spettacolo? Dunque, hai detto bene, sarà uno spettacolo perché non è né un concerto né una recita né un musical ma si tratterà appunto di uno spettacolo a 360 gradi. Ci saremo noi, band Poison Blackout, ci esibiremo, suoneremo brani sia nostri sia cover di brani rock famosi ma la peculiarità dove sta? Non sarò io a introdurre i brani ma ci sarà appunto questo attore che è Matteo che tra un brano e l'altro simulerà, reciterà delle scene di vita quotidiana in cui lo spettatore può tranquillamente ritrovarsi e immedesimarsi. Come è nata questa idea? L'idea è nata l'anno scorso, a giugno, quando sono tornato dalla mia primissima vacanza in crociera. Durante appunto la vacanza ho scoperto gli spettacoli serali che facevano sulla nave e sono rimasto totalmente affascinato da questa tipologia di format. Sono tornato a casa, ne ho parlato con i ragazzi della band e abbiamo pensato di mettere in piedi una roba simile però non poteva essere ovviamente solo un concerto nel teatro. Abbiamo quindi pensato di coinvolgere anche dei registi che sono David Milesi e Diandra Elettra Mosco Giuri e insieme a loro abbiamo scritto poi la sceneggiatura che quindi deriva da una mia idea ma grazie a loro è diventata per l'appunto concreta e abbiamo preparato quello che poi è diventato a tutti gli effetti uno spettacolo. L'ho visto letteralmente crescere perché è partita da una semplice idea di concerto dopodiché abbiamo iniziato ad aggiungere un attore abbiamo iniziato ad aggiungere le luci che andavano a tempo con la musica ci saranno anche dei video che accompagnano le esibizioni compaiono le parole a mo' di karaoke in certi punti e non voglio anticipare troppo in realtà vi aspetto tutti in sala il sabato 20 appunto per scoprire che cosa abbiamo combinato. Dopo il ritorno dello scorso anno Frappeia e Leffe di nuovo tempo di Speedy Box Rally la gara riservata ai boli di di legno sarà anche prova di apertura del campionato 2024 Sop Box e Drift Strike. Le macchinine di legno tornano a dare spettacolo tra Peia e Leffe domenica 21 aprile lo Speedy Box Rally come si svolgerà la giornata? Allora sì, Speedy Box Rally si parte la mattina con la punzonatura e l'esposizione delle macchinine di legno e dei trike alle ore 10 in piazza Leffe saranno visibili per tutti si potranno fare le fotografie anche salire provare l'esperienza di essere alla guida di questi veicoli così particolari pomeriggio invece ci saranno le tre manche una prima manche, una prima discesa spettacolare a tre macchinine quindi ci sarà una gara fra di loro seconda manche di pura velocità quindi le macchinine scenderanno singolarmente sfidando i loro tempi e la terza e ultima manche quella forse più spettacolare è quella con ostacoli ci saranno numerosi ostacoli, salti, muri di schiuma in cui le diverse macchine i diversi piloti dovranno cercare di superarli e restare interi possibilmente la gara al centro della giornata ma sarà una vera e propria festa esattamente abbiamo allestito un punto ristoro in cui ci sarà da mangiare una pizzeria, paninoteca così come un bar aperto sia per i piloti che anche per tutti gli spettatori al termine della gara invece ci sarà un terzo tempo con successivamente le premiazioni a cui verranno assegnato anche il trofeo Gian Battista Pezzoli alla memoria diamo anche qualche numero quanti equipaggi aspettate? ci aspettiamo una ventina di softbox di macchinine di legno e anche diversi trike tricicli che ci accompagneranno durante la giornata l'appuntamento in Val Gandino è anche il primo del campionato di softbox rally esattamente è la prima tappa del neocampionato dei ragazzi del box rally del box rally club seconda tappa invece è la mitica gara in città alta sulle mura di Bergamo immancabile appuntamento mancano pochi giorni alla dodicesima Sarnico Lover Run manifestazione organizzata da Moving Factory SSD dal 20 al 22 aprile lungo le sponde del lago di Seo sono attese oltre 10.000 persone tra partecipanti e accompagnatori massiccia la presenza degli stranieri da quasi 30 nazioni sentiamo dodicesima edizione per la Sarnico Lover Run un intero fine settimana dedicato allo sport naturalmente con il grande evento di domenica quanti atleti aspettate quest'anno? diciamo che siamo vicini al sold out su entrambe le distanze sia la 25 km da Sarnico Lover che la 6K che in sostanza è la family run per tutti da riva di Solto Lover per un totale di 4.500 iscritti che ovviamente si portano dietro tanta gente per cui sarà un weekend con oltre 10.000 persone sul lago di Seo in particolare a Lover sì tanti gli stranieri sì diciamo è un un percorso che stiamo seguendo da un 2 o 3 anni facciamo anche alcune operazioni all'estero quest'anno abbiamo 250 stranieri in gara che vengono apposta per la gara da una ventina di paesi soprattutto europei e devo dire che è una grande soddisfazione perché hanno apprezzato le immagini promozionali che noi diffondiamo del lago di Seo e hanno detto che è un posto bellissimo e quindi vengono apposta per correre la Sarnico Lover a questo va aggiunto anche il fatto che la metà dei partecipanti alla Sarnico Lover e degli attriti italiani non risiede in Lombardia quindi è una gara molto nazionale tanta gente dal sud Italia dalle isole questo ovviamente è molto bello perché ci permette di far conoscere il lago appunto sport ma anche promozione del territorio assolutamente questo evento è nato così tanti anni fa per organizzare sì un bel evento sul lago di Seo ma consapevoli che doveva diventare un piccolo volano per il turismo locale e diciamo che ci siamo riusciti almeno fino adesso sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista di promozione del territorio i numeri vi stanno dando ragione insomma brevemente vediamo il programma di questo fine settimana il nostro programma è distribuito su tre giorni cominciamo sabato il giorno 20 alla pista d'atletica di Sarnico come da tradizione c'è la Kids Run il pomeriggio alle 15 che coinvolge i ragazzi delle scuole elementari e medie di Sarnico e del circondario e altri ragazzini che vogliono partecipare con tutto il nostro staff e con Migidio Burifano la possibilità di fare queste mini gare all'interno della pista d'atletica vengono tutti premiati con la medaglia ufficiale della Sarnico Lovere con un gadget con la maglietta la merenda per tutti ma questo fa parte un po' del nostro modo di operare ecco dello status anche della nostra società sportiva che prevede ovviamente la promozione dello sport tra i giovani quindi meno Playstation almeno quel giorno meno smartphone e un po' di corsa all'aria aperta poi domenica mattina alle 9.10 parte la riva Lovere la riva Isolto Lovere la corsa corta alle 9.30 la Sarnico Lovere Run il giorno dopo come da tradizione andiamo a Montisola con una motonave dedicata quest'anno la navigazione il Lago di Sio ci ha messo a disposizione la Predore il nuovo gioiellino elettrico e a gasolio della navigazione portiamo degli ospiti dei turisti a Montisola e facciamo il periplo corricchiando insieme ai campioni della Sarnico Lovere Run a atleti ex atleti e a tutti gli atleti magari africani che hanno corso e hanno vinto il giorno prima quindi tutti insieme in gruppo qualche nome? beh insomma con gli africani sono un po' in difficoltà perché cambiano ogni anno c'è Muangi che ha già partecipato alla Sarnico Lovere qualche anno fa di recente è stato terzo alla Stramilano quindi ha buone possibilità mi piace sottolineare che in campo femminile abbiamo Sara Bottarelli che è comunque un'atleta preparata e che ha buone possibilità di giocarsi la vittoria quest'anno la Sarnico Lovere Run sarebbe molto bello perché è tanti anni che un'italiana non vince ma questa è una gara aperta a tutti quindi il più forte vince italiano o no telegiornale verso la fine quindi i programmi questa sera alle 20 Paddock il programma di motori a cura di Franco Bobbiese alle 21.30 Stadium lo sport di base si racconta a cura del CSI il centro sportivo italiano alle 22 True Italian Experience l'Italia da scoprire alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale alle 23.05 classica ma non troppo l'intervista programma musicale a cura di Roberto Arnoldi alle 23.45 il sasso nello stagno a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG l'Almanacco domani è venerdì 19 aprile il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 20.17 la luna in fase crescente sorge alle 15.42 tramonta alle 5.15 di sabato la chiesa ricorda Santa Emma e siamo giunti alla fine vi ricordo prima di salutarci dopo il TG l'appuntamento con il TG Sport a seguire la rubrica classica ma non troppo e infine le previsioni del tempo grazie per l'attenzione e buona serata grazie per l'attenzione